allora un mese d'allenamento al bassini che è stato fermo tre anni 150 di panca 4 settimane di allenamento va bene che è 120 però è anche 150 anni di panca poi c'è Beppe l'Atanasio che è venuto da una occhiata è buono se li fai ora ti vado a fare caffè e poi si finca la maglia per essere un mese solo che vieni in palestra è buono se nemmeno ci avessi da fare 200 kg ora quando la vede in russo è stato filmato qui va bene e breve dai via come quando facessi 200 di panca eh senza film forza Andrea eh dai è leggero è leggero hai fatto 270 ili dai è leggero suuuu basta vai sei arrivando grazie grazie